La manovra del governo Meloni al Senato si è potuto fare ben poco sulla fiducia, sui tempi. Siete soddisfatti dei contenuti? Beh, ovviamente non si poteva fare diversamente. Per legge, una legge di bilancio andrebbe presentata il 20 di settembre, si è votato il 25 di settembre, quindi ovviamente non c'erano tempi per fare un doppio passaggio Camera e Senato, se ne è fatto uno solo, si è fatto il possibile. Semmai c'è da domandarsi come mai gli ultimi due anni si è fatto un passaggio solo e non si è votato. Però lasciamo perdere, non ci interessa fare polemiche. La sostanza qual è? È una legge di bilancio che per due terzi affronta quello che è il problema dei problemi, cioè il costo dell'energia. Quindi due terzi è concentrato su questo. In continuità con quello che era già stato fatto, aumentando di molto però in particolare il contributo che si dà alle imprese, perché abbiamo bisogno di avere un sistema imprenditoriale solido e forte per garantire una ripartenza anche nel prossimo anno. Il resto della manovra è incentrato su misure che vanno in aiuto alle fasce più deboli, come è giusto e logico che sia. Dica la verità, lei è sempre intellettualmente onesto. La Lega si aspettava qualcosa di più, soprattutto sul cuneo fiscale. Ma a onor del vero, dati i tempi e data la disponibilità di risorse, visto che bisognava giustamente concentrare sul costo dell'energia, più di così non si poteva fare. Si poteva magari usare un po' di più per quanto riguarda, ad esempio, la flat tax sulle partite IVA, arrivare subito a 100.000 euro, che è l'obiettivo, che è quello che poi è logico e giusto fare. Però l'orizzonte è di cinque anni, quindi in cinque anni ci sarà tempo per fare tutto quello ancora che va fatto, quindi intervenire definitivamente con la riforma fiscale. Il viceministro Leo su questo si è già esposto. Mi auguro che su questo si inizia a lavorare già da subito al Senato, alla Camera, di modo che si riesca a completare il pacchetto fiscale che riguarda tanti temi. Si è parlato oggi, per esempio, molto di riscossione. Ebbene, domandiamoci come mai, con i governi di tutti i colori, aumenta il monte non riscosso da parte dell'Agenzia delle Entrate. Vuol dire che il sistema va rivisto profondamente. L'onorevole Costa di Azione ha proposto la riforma sulla prescrizione. La Lega è molto attenta alla tematica della giustizia. Le proposte del ministro Nordio vanno nella vostra direzione? Sì, sono proposte molto ponderate, pensate e coraggiose. È esattamente quello che va fatto finalmente. Non si può essere giustizialisti oppure garantisti a tempi alterni e a seconda delle parti politiche. Per esempio, io sono garantista sempre indipendentemente dalle parti politiche. Noi abbiamo la necessità di un forte intervento in tema di giustizia e il ministro Nordio su questo ha tutte le capacità e le competenze per fare un ottimo lavoro. Noi lo sosterremo. Noi lo sosterremo.